buongiorno ragazzi oggi ho qualcosa da farvi vedere non bello veramente non bello sono qui in un'area di sosta e ho visto qualcosa che non mi è piaciuto ma proprio brutto brutto guardate questo camper forse qualcuno gli ha dato fuoco forse una varia elettrica forse qualcosa o magari semplicemente un dispetto chi lo può dire e siamo in provincia di bergamo qui comunque la delinquenza è bassa e la gente si comporta bene ed è corretta guardate quella finestra mi dispiace un vecchio mercedes non è male come camper guardate qua ha preso fuoco deve essere scoppiato anche un cristallo di una macchina vicino guardate che roba mamma mia che peccato si può sicuramente rimettere a posto ma non so quanto ne valga la pena per una per un mezzo così vecchio non so quanto ne valga la pena e comunque una bella rottura di scatola se ci pensiamo un attimo magari questo ci faceva le vacanze poverino perché non penso fosse un full timer sennò magari non sa neanche che è bruciato il camper vabbè pazienza è